L'altro ieri la protesta, con la notte passata al freddo di fronte all'albergo che li ospitava. Ieri la fuga non autorizzata a Vicenza per parlare con i funzionari della prefettura. I 26 profughi, protagonisti delle cronache di questi giorni, chiedevano una nuova sistemazione, quanto meno di tornare all'hotel Tina, dove alcuni di loro sono ospitati ormai da sei mesi. Nelle ultime due settimane i ragazzi erano stati trasferiti al vicino ostello Zeleghe, distante dieci minuti a piedi, mentre all'hotel procedevano i lavori di manutenzione e sistemazione dell'impianto di riscaldamento. La previsione era di farli restare lì due settimane, poi i lavori si sono dovuti protrarre per un paio di giorni. Nell'ostello sono presenti altri 55 profughi trasferiti da Valli del Pasubio. Anche in questa convivenza forzata potrebbero esserci i motivi delle tensioni degli ultimi giorni. Siamo venuti a Cesuna per visitare l'ostello in cui sono alloggiati provvisoriamente e abbiamo parlato con la responsabile di struttura per la cooperativa Eco-Officina, Verena Vettorato. Verena, vi siete fatti una domanda sui motivi per cui questi ragazzi hanno deciso di uscire da questa struttura e di protestare. Allora, la domanda è stata posta a loro principalmente e la motivazione che ci hanno dato ieri è stata che non possono stare in camerate così da otto, diciamo, con un solo bagno e così tanti insieme come totalità, insomma, nella struttura. Quindi questa è la motivazione che ci hanno dato. Poi, che sia, insomma, voi avete visto la struttura, quindi potete benissimo, avete visto, insomma, che in realtà è vivibilissima. Quindi questa è l'unica motivazione che ci hanno dato e che ne prendo atto, insomma, ecco, non posso fare altro. Perché loro erano abituati prima a stare all'hotel Tina dove avevano stanze più piccole e comunque da lì sono stati trasferiti provvisoriamente qui. Ecco, ma perché hanno deciso di voler tornare di là quando qui comunque, e gli spettatori possono vederlo nelle immagini, la struttura appare appunto comunque dignitosissima? Allora, era stato anticipato ai ragazzi che ipoteticamente i lavori sarebbero terminati nel giro di due settimane. Così non è stato. Sapete benissimo anche voi, quando si cominciano a fare dei lavori, magari si può ritardare di un paio di giorni. Loro hanno preso come data le due settimane e alla fine delle due settimane hanno deciso di rientrare comunque, a prescindere dal fatto che noi avessimo detto sì, potete tornare, perché i lavori sono finiti, piuttosto che aspettate un paio di giorni in più. Ecco, ieri è stata una giornata difficile per tutti, immagino, e so che anche tu personalmente vi siete spesi anche per cercare di convincerli a ritornare, c'era la presenza anche delle forze dell'ordine, però non avete avuto successo in questo. Abbiamo provato a parlare, insomma, è da convincerli ovviamente in modo molto pacifico, spiegandogli che si trattava di uno slittamento, insomma, molto piccolo e che star fuori a queste temperature in questo periodo qui in montagna non è l'ideale, per loro ma per nessuno, insomma. Gli abbiamo chiesto, gli abbiamo detto che se fossero tornati non ci sarebbe stato nessun tipo di problema, ma che erano i benvenuti. Siamo stati lì appunto con i carabinieri, con la polizia e noi operatori, abbiamo cercato tutto pomeriggio di convincerli. Poi siamo tornati in struttura, perché comunque abbiamo anche gli altri ragazzi da seguire. Abbiamo rifatto un passaggio verso le 9, 9 e mezza, niente. Poi abbiamo fatto l'ultimo passaggio verso le 11, chiedendogli ancora la cortesia di tornare, sottolineando il discorso del freddo, perché giustamente, insomma, ma non hanno accettato, insomma, quindi ce l'hanno provato. Ecco, qui voi gestite quotidianamente, con una presenza appunto quotidiana e anche notturna, di vostri operatori, la giornata, mediamente, come si svolge, ci sono attività, iniziative? Certo, facciamo i corsi di italiano, sia il pomeriggio che la mattina, divisi in gruppi, in base alla lingua che parlano, quindi tipo i francofoni, quelli che parlano francese, piuttosto che inglese, o magari ragazzi che hanno anche qualche difficoltà di scrittura, quindi dividiamo. In questo momento sono molti i gruppi, perché essendo molti ragazzi, insomma. E poi facciamo attività che possono essere quelle, facciamo geografia, facciamo giocazione civica, facciamo, stiamo cominciando a fare un po' di storia, poi facciamo proiezione di film con dibattito, quindi non solo a livello, sì che sia un film che quindi è un momento ricreativo, ma che dopo ci sia insomma anche un momento per stare insieme, per parlare, e poi insomma gli diamo anche un po' di spazio per divertirsi quando ce lo chiedono, noi siamo insomma ben contenti, c'è una sala dove possono mettere la loro musica tradizionale e stanno in compagnia, insomma anche con noi, perché alla fine noi siamo sempre qua con loro, quindi ecco. Ecco, ieri, no anzi questa mattina abbiamo incontrato i ragazzi che sono venuti giù a Vicenza in questura, di loro iniziativa, e ci dicevano, oltre alle motivazioni di cui abbiamo parlato, il problema delle camerate, il freddo che c'è fuori, che ci sono alcuni di loro che hanno problemi di salute e pareva dalle loro parole che non fossero seguiti sufficientemente, ci puoi dire qualcosa su questo? Allora, i ragazzi in particolare, beh io ho visto insomma l'intervista, quindi so di cosa stiamo parlando, le persone specifiche ci sono in programma delle visite particolari, nel caso del ragazzo con il problema dei denti e visita odontoiatrica, è stato visto dal medico di base qualche giorno fa, abbiamo una prescrizione, dobbiamo prenotare, adesso appena ci danno la data, verrà accompagnato insomma e di conseguenza verrà fatta la valutazione su come procedere insomma e risolvere il problema che ha. Adesso i ragazzi che sono stati giù a Vicenza comunque hanno deciso, convinti probabilmente della prefettura a ritornare qui e adesso in questi minuti stanno tornando, come li riaccoglierete? Beh, noi li accogliamo bene perché comunque noi questi ragazzi insomma siamo comunque affezionati, li conosciamo da un po' di tempo, spero che ci sia la possibilità di chiarirci, di parlare in modo che siano veramente delle necessità reali, dei bisogni, insomma noi siamo qui per aiutarli e cercare di risolvere insomma quelle che sono le problematiche, pur che siano reali insomma e effettive. Scusa, non ti ho chiesto prima in quanti operatori siete qui che seguite i ragazzi? Siamo cinque operatori, poi ci sono vabbè addetti pulizie, cuochi eccetera insomma.